L'olio? Ci serve? No, no, no. Lo vuoi? No, no, dicevo per l'olio, per l'ubbligo. No, a lui mi serve, grazie. E la pagaggio? Tu pure prima la ventina? No, 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 no. E tu hai messo la differenza, 8.8.16 a 29 euro hai messo 8.9 euro No, no, volevo capire se la tua consuma di meno, perché a te ne aveva di meno Tu eri quello con meno pensione di tutti quanti Eh, ne ho messi 8 comunque Se l'hai messo gioco, la tua non si deve controllare la tua Ma, eh, vabbè, bisogna vedere quanto era quel poco che ci stava sotto Oh, ma non siete siete la consuma con più Pero all'innovazione è vera non si può fare Grazie a tutti. 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 di qua non vedo segni però di là qualche segno lo vedo secondo me però non vedo tracce di qua non passano è di qua dov'è guarda qua